Siamo sulla casa comunale di Nocera Imperiore con l'appuntamento solito con il sindaco di Nocera Imperiore, avvocato Maglio Torquato, col quale scambieremo alcune battute inerenti i problemi che toccano la città. Cominciamo subito, sindaco, mercoledì prossimo, se non ho capito male, seduta di Consiglio Comunale, stavolta sulla casa comunale? Sì, ovviamente sempre nel rispetto delle misure anti-Covid, chiariamo, stiamo rispettando anche ora perché siamo distanti di due metri, lui indossa la mascherina, quindi siamo in forma cautelativa. Lo faremo presso la casa comunale, ovviamente chiusi al pubblico, con diretta streaming, sarà mercoledì mattina alle 9.30 e quindi procederemo a due approvazioni importanti che sono peraltro propedeutiche alle assunzioni dell'ente e quindi al piano del personale, nel bilancio consolidato e poi la razionalizzazione delle società partecipate e due regolamenti disciplinari sul cimitero, regolamento cimiteriale in adeguamento e sulle lampade votive. Voglio subito affrontare il problema del maltempo dei giorni stessi, il maltempo che ha creato problemi enormi in alcune città tipo Sallo. Fortunatamente si è salvato da questo aereo-moto che c'è stato due giorni fa. Si ha avuto qualche problema, ma non problemi importanti, nel senso che abbiamo avuto un paio di alberi, due o tre alberi che si sono spezzati, ma non come sarno fortunatamente per noi. E introduco, approfitto di questo problema che si è avuto sugli alberi, per parlare di un monumento particolare ed è importantissimo nella città di dell'Oceano Imperiore. La villa comunale è la frontale caserma rossa che è uno spettacolo architettonico. No, gli interventi sono quelli previsti per la villa comunale, non per la caserma rossa perché la caserma rossa non è nella nostra titolarità. Per la villa comunale, come penso molti ormai sapranno, abbiamo affrontato, è stata fatta una determina a contrarre il mutuo per una riqualificazione complessiva della caserma, della villa comunale, di tutta, per complessivi 800 mila euro, quindi sarà rimessa in sicurezza, sarà fatta tutta la parte del piano delle alberature, gli scaloni, la parte sottostante. E poi c'è il discorso relativo invece alla biblioteca, che attualmente stiamo verificando se sia in nostra titolarità o meno, perché è probabilmente oggetto dopo tanti e tanti anni, dopo la fine della cassa depositi e prestiti che ne aveva la titolarità, comprenderne se effettivamente in via formale la titolarità sia della regione oppure addirittura del comune. Comunque quella non è oggetto di intervento, ma il complessivo della villa comunale dopo decenni sarà finalmente riqualificato. Ci sarà la possibilità di un intervento non da parte del comune, ma fare pressione presso chi di dovere per la caserma? A dire la verità, lo abbiamo fatto in passato, è un discorso che va ripreso. Perché è un gioiello che deve essere comunque rivalutato. Continuo il discorso sugli immobili, Parco Fienga, diciamo è la storia di Nocera, parliamo di Boccaccio e parliamo di tanti altri grandi personaggi. Che cosa c'è in atto per recuperare e rivalutare il Parco Fienga? Ma sono stati fatti degli interventi già di riqualificazione del Salone, poi ci sono interventi più importanti e più ampi. Io ho anche incaricato un consigliere comunale di formulare delle proposte di progettazione di studio che ancora sto attendendo, ma abbiamo ovviamente funzione di interesse a manutenerlo fruibile, a ottenerlo fruibile. Buona parte degli interventi sono stati già fatti, adesso i sentieri che portano dalla villa al castello avranno anche una nuova parte di completamento e di cosiddetto restyling o riqualificazione. Quindi anche su quell'intervento, anche su quella struttura io ritengo che per il 2021 ci sarà un completamento importante di lavori. Innanzitutto è stato elettrificato, illuminato, i sentieri sono illuminati perché prima era saltata tutta l'impiantistica. Ci saranno gli spettacoli? Ma questo dipende poi dall'emergenza sanitaria perché tante di quelle cose che avremmo pensato di fare non si possono fare. Noi pensiamo a fare un lavoro strutturale di impianto della città. Senti, voglio continuare a parlare delle proprietà del Comune. Gli ACP, autonocasi popolari, che cosa state immaginando di fare? Ma quella non è una proprietà del Comune per l'esattezza. Il Comune è comunque sul territorio, sono immobili. Sono gli immobili che vanno completati. Abbiamo un incontro in questi giorni con il nuovo funzionario di ACER Salerno perché come tutti sanno l'IACP non c'è più e credo che riusciremo a partire almeno con uno dei due immobili con il progetto per il quale il Comune ha già rilasciato il permesso di costruire già da un po' di tempo. Anche questi sono quegli interventi che sono di fatto riconducibili alla Regione Campania, come per la questione fognature. Il Comune fa la propria parte, poi il resto del completamento sia per lo stanziamento sia per le progettazioni e la cantierizzazione dei lavori deve essere fatta dall'Istituto. Noi stiamo sollecitando in maniera continua, abbiamo un incontro in queste ore con il nuovo funzionario, lì sono cambiati un paio di responsabili della sezione di Salerno e dell'ACER e spero che metà a fine 2021 inizieranno a cantierizzare anche, se non prima, se fosse possibile, almeno uno dei due fabbricati nuovi, aggiuntivi che andavano realizzati. E le case e le palazzine di Monte Vescolato? Riguarda proprio quel comparto lì. Lì il discorso è complesso perché noi abbiamo fatto un censimento che è in corso quasi ormai di definitivo completamento, che era una cosa che non si faceva da tanto tempo e per il quale bisognerà ripensare effettivamente o alla demolizione o differentemente ad una potenziale, perché no, riqualificazione di quelle strutture. Perché anche la demolizione ha un costo importante, non è questione di poco. Certo, certo, ma anche per lo smaltimento. Ma è un problema di gestione dello smaltimento, sia la parte relativa allo sgombero proprio fisico delle famiglie, sia la parte dei lavori. Quindi lì bisognerà, io credo, procedere in maniera bilanciata tra il nuovo realizzo dei nuovi alloggi per gli aventi diritto e quello che va fatto per il processo. Prima di continuare con gli altri argomenti che abbiamo intenzione di trattare, il Natale anno sera, come sarà quest'anno? Innanzitutto un Natale con l'epidemia, cioè purtroppo con quello che sappiamo, i simboli natalizi di decoro del Natale, delle strade, dei luoghi, comunque li stiamo facendo mettere e saranno portati avanti. I simboli natalizi che si stanno mettendo? Sono proprio quelli, quelli di cui stiamo parlando, cioè l'illuminazione, ovviamente inevitabilmente sarà un Natale rispetto agli altri anni passati in tono minore per le ragioni note. Prima io gli ho detto che non c'era Pagani, anche la sera fanno molta malingonia, veramente suscitano malingonia, specialmente verso le 8, 8 e mezza. Diciamo che dobbiamo essere contenti che la gente non c'è in strada, ma si aspetta qualcosa di nuovo dall'ultimo DPCM del Presidente del Consiglio? Ma no, l'ultimo DPCM oramai è stato firmato, quindi sono evidenziate quelle minime possibilità di maggiore libertà rispetto alla precedente decretazione, sono davvero minime perché si parla dell'ora di pranzo per i ristoranti, le vigili e quindi ma non il cenone, con limitazioni dei numeri, con alcune possibilità di riapertura di alcune attività, però sono davvero minime e poi vanno completate anche con l'ordinanza che il Ministro della Sanità ha adottato e quindi è chiaro che resta un contesto generale complicato e claudicante, noi speriamo un po' per il vaccino, un po' per un fisiologico abbassamento, per un fisiologico abbassamento della curva epidemica di andare verso la direzione di una tendenziale normalizzazione per la metà del prossimo anno. Lei non si fa mancare nulla nella sua città, inerente ai problemi, fra questi i canali che attraversano la città, che portano poi le loro acque nel fiume Sarno, c'è qualche novità? Tutti credo abbiano seguito e sentito quella che è la nuova protesta molto forte che ho rivolto nei confronti della Regione, dell'ente idrico e della Gori per far partire questi lavori, perché i finanziamenti ci sono, non ci sono, vengono appostati, poi riappostati, poi tolti, non concretamente erogati. Io credo che sia davvero uno scandalo la situazione che c'è a Nocere Inferiore e che sia un diritto della cittadinanza, non una cortesia che ci viene fatta da nessun ente sovraordinato, né dalla Regione, né dal Lake, né dalla Gori, provvedere immediatamente, perché è una storia che va avanti da 50 anni e stiamo parlando di una città di circa 50 mila abitanti con dei fiumi ridotti a Fogna in pieno centro, nel frattempo giustamente le procure fanno le loro attività di indagine e il paradosso è che parte delle acquisizioni documentali siano fatte presso i comuni, che questa situazione di fatto la subiscono, perché non hanno né competenza normativa né competenza finanziaria. Detto questo, io spero che la situazione trovi uno sblocco. È chiaro che oggi ci sono e oggi c'è una precisa individuazione delle responsabilità, dal punto di vista degli obblighi ad intervenire ad oggi, da oggi, diciamo da oggi, già da qualche anno in realtà. Oggi la Regione deve e può finanziare le opere, oggi l'ente idrico deve e può approvare i progetti definitivi, oggi la Gori deve e può mandare in affidamento i progetti di secondo e terzo lotto e soprattutto contrattualizzare i progetti di primo lotto stralcio. Sono azioni che non fanno i comuni, i cittadini debbono saperlo. Io ho dichiarato addirittura che se fosse ulteriormente necessario come forma di protesta provvederei a scendere al fiume per svolgere lì la mia attività amministrativa quotidianamente. È chiaro che non mi piacciono le teatralità, ma se non c'è una forma diversa per allertare questi pigri, dico io, nel senso di fronte ad una problematica così grave e non resta altro che quello. Lei già ha fatto una forma di protesta qualche mese fa? Un anno fa, un anno e mezzo fa. Insomma, sviluppando una protesta non... Ed ha prodotto altra inerzia. Nel senso che... Ecco, io questo volevo sapere, ma la Gori ha dato risposte? No, la Gori ha completato le procedure di affidamento, ma non contrattualizza i lavori, perché la Regione non le rimette il decreto di finanziamento. Il dirigente della Regione ha fatto un decreto programmatorio, ma non di immediata liquidità. Insomma, siamo alle solite. Una cosa... Questa davvero, la parola vergogna che viene tanto abusata in questo caso è adattissima, perché non è possibile che stiamo ancora da un anno e mezzo fermi, aspettando e chiedendo quella che, ripeto, lo ripeto a chi ci ascolta a voce fortissima. Questa non è una cortesia o un privilegio politico che viene fatto, ma ha un diritto dei cittadini di Nocera e questo diritto gli deve essere riconosciuto e attuato da Regione, EIC e Gori, come è giusto che sia. Siamo sempre alle solite, la burocrazia che taglia le gambe alle attività. Ma non è solo la burocrazia in questo caso, comunque aspettiamo a vedere quello che succederà. C'è un impegno assunto anche da qualche consigliere regionale, vediamo, io, ripeto, ho corrisposto anche direttamente in via messaggio, sia con il Presidente della Regione che con il Vice Presidente della Regione, ho detto all'incirca quello che sto dicendo a voi, cioè che è una condizione assolutamente vergognosa quella in cui Nocera sta. Noi abbiamo avuto la visita del Presidente della Regione a giugno, siamo a dicembre, ma stiamo ancora a discutere del riappostamento finanziario che è stato fatto con variazioni di bilancio compensativa dall'Aggiunta regionale qualche giorno fa, però poi va fatto l'impegno di spesa, poi va fatto il decreto di erogazione dei fondi da parte della Regione Campania. Sentra, sento sul piano della pandemia, Nocera, come è messo? Nocera ha un alto numero di contagi, notoriamente, io volutamente, in parte per serietà non do un bollettino, primo perché il bollettino quotidiano oramai è diffuso tramite un'agenzia di stampa dalla Regione Campania, ma il numero aggiuntivo dei contagi, l'ho spiegato più volte ai cittadini, lo ripeto, non dice nulla perché non ci dice i guariti, non ci dice gli ospedalizzati, non ci dice i nuclei familiari e soprattutto noi siamo stati messi nella condizione oggettiva di non riuscire, non è un compito doveroso nostro, ma lo facevamo in affiancamento a fare il tracciamento dei contagi. Questo è un sistema che è saltato, la sanità territoriale al di là della buona volontà di chi ci lavora, che è tantissima, medici ed amministrativi, non è stata messa nelle condizioni di funzionare per tempo ed adeguatamente, questo è stato diciamo uno smacco per tutti noi perché come avevamo ben gestito la prima fase così non siamo stati nelle condizioni di potere dal punto di vista dei tracciamenti e della ricostruzione ben gestire la seconda. Io sono dell'idea, l'ho detto in più di un'occasione, che questo al di là del problema dei medici ospedalieri e degli infermieri, che è la parte finale del problema e che pure è importantissima, perché se mancano chiaramente c'è una difficoltà a fornire assistenza, se mancano i posti letto ma pare che non sia così c'è una difficoltà a fornire assistenza, ma c'era un problema preliminare, quella di tenere sotto controllo l'epidemia nell'ambito della sanità territoriale, ma è chiaro che se i medici di sanità territoriale sono pochi non riescono a fare i tracciamenti, se i tamponi si fanno in ritardo e i tracciamenti non hanno più valore perché quelli arrivano dopo 4-5 giorni, nel frattempo il soggetto magari si è mosso e non lo siamo riusciti a contattare, se non siamo riusciti, non si è riusciti con le usca ad intervenire per tempo, perché che fanno le usca? Vanno, fanno il tampone, a parte il tempo di attesa e la risposta che non dipende dalle usca ma dai centri ospedalieri, ma poi non riescono a fare per tempo o per bene la visita, il controllo, l'assistenza, ma ci si arriva con fatica e con ritardo, è chiaro che era una cosa questa che si doveva e poteva gestire in tempo, non era una cosa fantascientifica, non si trattava di prendere decine di medici o decine di infermieri o decine di operatori socio-sanitario o centinaia in rapporto alla regione, si trattava di avere un minimo di capacità organizzativa territoriale che in realtà è mancata, ma lei deve considerare la stessa questione dei tamponi all'ospedale, lo ripeto cento volte, anche lì non c'era, lo dico con moderazione della voce o della impostazione, ma con grande irritazione della sostanza, ma com'è possibile che noi abbiamo dovuto anche lì sbattere i pugni, il sottoscritto lo ha fatto, nonostante abbiamo dato 50 mila euro alla sanità aziendale, cioè il comune di Nocera è l'unico comune che per avere il tampone all'Umberto I, una cosa che in altri comuni poi con tardi ma è arrivata, ha dovuto aspettare novembre, si è impegnato da maggio a giugno, ha versato 50 mila euro e sono arrivate le macchine per i tamponi all'ospedale a metà novembre, cioè quello non solo era un diritto ab inizio per un ospedale come l'Umberto I, che peraltro è il DEA che contiene il Covid Hospital di Scafate, quindi era un diritto, per di più ci abbiamo messo i soldi, e che soldi? Ma per vederli messi i macchinari finalmente a novembre, cioè è chiaro che di fronte a tutto questo c'è una evidente disattenzione o ritardo per un territorio che dovrebbe essere un territorio nevralgico per la provincia di Salerno e per la regione Campania, l'agronocerino, che questo a Salerno faccia piacere o meno, è il comparto territoriale interprovinciale, più importante che c'è in Campania, come cosiddetta zona media la chiamano geograficamente della regione, siamo un comparto territoriale che ha 300 mila, 400 mila abitanti circa, se ci si mette cava dentro nel raggio che va da cava a Scafati, è la parte che ammortizza i problemi, gestisce i problemi, ha la demografia più problematica, la densità più problematica, lo sviluppo industriale più importante, la mobilità più complessa di tutta la regione, nel raggio che va da Napoli a Salerno e c'è una distrazione sostanziale, sì, con ogni tanto occasionali forme di attenzione, ma non c'è il ruolo politico e questo è un grosso problema. Su questo, è una distrazione voluta o è una distrazione? Per me è una distrazione, sia voluta o meno, io giudico la non attenzione evidente ad una regione, ad una zona della regione, c'è l'agronocilino sarnese che è importantissima, non c'è un patrocinio politico vero, questa è la verità, poi si ha voglia di alzare le bandiere, i vessilli, ma non c'è in questa fase un patrocinio politico vero. C'è una dispersione dei sindaci, va detto questo, c'è una dispersione dei sindaci, primo perché secondo me c'è una difficoltà oggettiva e una cattiva volontà pure, la difficoltà oggettiva è che ogni sindaco calato nei problemi del proprio comune, che sono tantissimi, il tempo per dedicarsi ad un'azione di collaborazione organica e permanente non ce l'ha più, i luoghi deputati a fare questo dibattito sono scomparsi, c'erano prima le agenzie di sviluppo locale del territorio, la ex Agroinvest, del quale potremmo dire qualche cosa, per cui siamo in difficoltà. Lei accetterebbe il ritorno ad una società tipo Agroinvest? No, ad una società tipo Agroinvest assolutamente no, perché noi non ne abbiamo più necessità, poi mi permetterà di chiarire anche la convenzione che abbiamo stipulato con Agroinvest a titolo gratuito, avendo ceduto le quote societarie, questo va chiarito, ma una forma di concertazione permanente, una conferenza dei sindaci dell'Ana Rorto va fatta, è chiaro che se poi alcuni sindaci scappano da questa forma di organizzazione, perché magari vengono richiamati da qualcuno o magari non si sentano parte, è chiaro che il problema c'è. E quindi l'agro rimarrà sempre una terra che è bistrattata? L'agro ha una grande difficoltà, io credo che non avremo una grande occasione che sarà l'occasione delle elezioni politiche, se ridefiniranno i collegi come io penso si ridefinirà, sarà il momento di mettere i puntini sulle I e di chiedere e ottenere una rappresentanza politica territoriale, non farsi teleguidare da nessuno. Ma Agroinvest al di là di tutto segnò qualche anno fa un periodo d'oro che che se ne dico con tutte le critiche del caso di questo territorio. Quindi un ritorno... Vabbè, poi no, con tutte le critiche del caso no, quella funzione è finita e noi l'abbiamo chiusa cedendo le quote societarie, dismettendo la titolarità delle quote societarie. L'oggetto di una polemica ricente di qualche consigliere di opposizione, qualcuna più intelligente si è letta le carte e forse ha capito lo spirito, sempre alla stessa, ma invece c'è qualcuno che è sempre lo stesso, non sa che deve dire o gli stessi, non sanno che devono dire e dicono cose in libertà. Noi non abbiamo fatto, abbiamo stipulato una convenzione recente con Agroinvest a titolo gratuito, perché per valorizzare alcune esperienze professionali di quella società, ma senza onerare il comune di partecipazioni e quote societarie, quindi senza oneri per lente e quindi avvalendoci di una collaborazione importante che per di più ha svolto anche una funzione qualificata assessorile presso questo comune, abbiamo stipulato una convenzione gratuita, ma non come ho letto dai titoli del giornale, perché è evidente che oramai nelle redazioni le notizie non le seguono manco più, insomma oramai forse è meglio Facebook che leggere i giornali la mattina, questo lo dico a chi c'è la scuola. La prego, non c'è parla di presa di ufficio, perché non credo. No, ma è proprio d'ufficio se parla di presa, ma io leggo delle bestialità sui giornali che dico ma veramente, ma questi la mattina, mi ricordo di D'Alema, quando diceva ai giornalisti lavorare non le sembra dire troppo, insomma, perché alcuni non lavorano, ma lo dico con spirito volutamente polemico, perché se uno non inquadra manco la notizia, non si legge manco la carta e quando se la legge sbaglia a leggerla è un problema, è chiaro che poi c'è tutto il meccanismo a catena di redazioni che fanno i titoli a cavolo e non sanno manco di che parlano, anche qui i giornali in genere è sempre lo stesso. Senza generalizzare, se devo la prego. No, no, specificamente, è un quotidiano provinciale importante, ma che costantemente titola in modo improprio e costantemente porta notizie in modo parziale o non completo o non ben trasferito. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una cosa semplice, abbiamo convenzionato con la società a titolo gratuito, senza oneri per il comune, non la gestione delle aree industriali, come ho letto balordamente scritto qua sopra, ma la collaborazione professionale per le attività di infrastrutturazione del comune, poiché la società Agroinvest era una società di trasformazione urbana, quindi tutto ciò che riguarda la trasformazione urbana, e ha professionalità valida e noi a titolo gratuito abbiamo instaurato un rapporto collaborativo con l'ente comune per dare un supporto operativo, collaborativo, consulenziale e improprio, gratuito, in forma convenzionale con la società, che sarà un supporto operativo, questo è, non è che facciamo le aree pippa ad Agroinvest, no, chi ha letto questo non si ha letto manca la convenzione prima di scrivere i titoli dei giornali o degli articoli, perché è tutto ciò che riguarda l'infrastrutturazione, a modo esemplificativo abbiamo detto aree industriali, viabilità di raccordo intra-extracomunale, edilizia sociale e popolare, infrastrutture, per esempio il sistema fognale, e quindi ci sono una serie di attività, che tristezza, lo voglio dire, che tristezza, me lo sconforto di fronte all'apatia qualunquistica, di cui non sono solo portatori alcuni sedicenti politici delle nostre città, ma anche soggetti qualificati che dovrebbero trasferire notizie complete, questo vanifica, perché c'è una difficoltà, proprio mi deve credere, poi si può subire l'opposizione, guardi io sto menzionando, sono due o tre volte già che l'ho fatto e non per fare propaganda a nessuno, sto menzionando una persona che è un consigliere comunale, per fare un esempio di un atteggiamento a parte mia imparziale, che è mio oppositore anche molto ostico, ma che viva Dio, se legge una carta e sappiamo di che parliamo quando ci scontriamo, qua non si sa neanche di che si parla, chi parla, chi dice, chi scrive, non si sa di che si parla, ma è meglio Facebook, è più divertente, almeno uno vede le ricette della cucina. Io quello che ci tengo a chiarire è che il campo giornalistico è variegato, quindi non... Si dice che la politica sia scaduta, ma il giornalismo è scaduto assai prima. Ha seguito la politica, ha seguito la politica, o la preceduta. A proposito di politica, i malumori, le impolizioni... No, non mi interessa, siamo a Natale, non mi interessa. Parliamo di pace? No, no, non mi interessano proprio. Al prossimo consiglio comunale di che cosa parlerete? Abbiamo, come le dicevo prima, il consolidato che è funzionale al piano delle assunzioni e il piano di razionalizzazione delle società partecipate. Piano delle assunzioni, perché anche il comune... Il comune è un comune in turnover, si dice, cioè un comune che sta smaltendo il personale precedente per anzianità di servizio o per quota 100, quindi abbiamo necessità. Quanti danni ha fatto la quota 100, secondo lei? No, io invece sono un sostenitore di quota 100. Sì? Sì. Però le amministrazioni ormai sono svuotate. Lo lasci dire a chi ha svolto, mi permetto di dire, attività amministrativa per nove anni circa, otto anni e mezzo ad oggi. Lavorare con un personale che è costretto a rimanere in servizio tra i 64 e i 67 anni è un assurdo e parliamo della pubblica amministrazione. Immaginate anche lavori più di fatica o più di concetto. Avere l'obbligo nel rapporto dipendente a non poter andare in pensione se non a quella età è una ferocia economicista, frutto di un paese sballato in un'Europa più sballata del nostro paese. E questo è il risultato che noi abbiamo prodotto. È chiaro che per tenere dentro, poi vogliamo, da una parte vogliamo assumere i giovani, dall'altra parte vogliamo tenere i vecchi. Non si può stare svegli la notte e svegli all'alba, o si dorme la notte o si dorme all'alba. Quindi siamo veramente, siamo dominati purtroppo dall'economia, dall'economia finanziaria, siamo dominati da logiche economiciste e produttiviste che io abborro totalmente e che sono, poi producono frutti perversi, sono per alcuni criteri quantitativi nella nostra società, non quelli quantitativi. Ci sono i fondi, secondo lei, nelle amministrazioni comunali per poter assumere una nuova classe amministrativa? Noi siamo un Comune in riequilibrio, io ricordo, credo che fosse Catone e Luticenze, ma non ricordo se Catone e Luticenze o Catone e il Censore, l'evocare continuamente il Delenda-Cartago, io non dico il Delenda-Cartago, però ricordo sempre da dove siamo partiti. questo Comune era al dissesto, al dissesto, cari nocerini, quando vi lamentate dopo otto anni, dicono, ma questi che ancora stanno a lesinare la coperta, ma perché il dissesto non è che finisce, o il predissesso nel nostro caso, in un anno, due anni, tre anni, produce i suoi effetti, quando una famiglia si è riempita di debiti, delle volte i debiti durano per una o due generazioni, ed è quello che abbiamo subito noi. Io ero per dichiarare il dissesto, le parti politiche che mi sostenevano erano contrarie alla dichiarazione di dissesto, io ero per dichiarare il dissesto perché comprendevo la faticosità dell'azione di recupero e quindi non per una volontà persecutoria nei confronti di chi mi aveva preceduto, assolutamente, ma per segnare una demarcazione. Questo non è stato fatto, non è stato fatto per volontà politica dell'amministrazione mia, più che mia personalmente, adesso dopo anni stiamo comunque a gestire le difficoltà, che non sono quelle dei 50 milioni di disavanzo per nuovo indebitamento che ha sostenuto qualcuno, senza probabilmente leggere con attenzione gli atti di consuntivo e di bilancio, ma ovviamente del riordino che è stato fatto anche sotto dettatura della Corte dei Conti, ma che comunque segna una grande difficoltà del nostro ente a lavorare in un certo modo. Questo non significa non fare opere pubbliche, lo dico a qualche consigliere di opposizione in quale dice, ma allora non dobbiamo fare i mutui, allora facciamo deperire il patrimonio, teniamoci le strade con i buche, teniamoci il castello che se ne cade, la villa comunale che non si può riqualificare, teniamoci le piazze che non si possono sistemare, non facciamo i sottoservizi, non completiamo un servizio di ripetonalizzazione della città, anche quello è un servizio di tutela ambientale in modo indiretto, perché pedonalizzare i centri significa svelenirli da un certo sistema di inquinamento veicolare, significa fare porre gli altri lavori. Senta Sidero, una domanda che potrei anche non fare, ma è una mia curiosità, via Solimena è la strada credo più ricca di storia della città di Noceano, però mi sembra un poco abbandonata, messa in periferia quasi. Via Solimena è una strada a cui io tengo molto, anche se può non sembrare, via Solimena è compromessa nelle sue condizioni attuali dalla permanenza di una caserma che è figlia di nessuno, il Ministero se la gestisce, il Ministero se la tiene, il Ministero non la cura, intanto sta in casa nostra. Quindi ripeto anche questo, il Comune non lo può fare, il Comune non ha la titolarità di quel bene, non ha la titolarità finanziaria. Ma è di proprietà del Ministero, del Demanio? Sì, l'ho detto più volte, è demaniale, quindi del Governo, dello Stato centrale, il quale il Demanio della difesa, poi la difesa l'ha trasferita al Demanio e in virtù di un accordo stipulato tutto tra organismi centrali dello Stato, non il Comune, è attualmente nella gestione, almeno in quota parte, se non addirittura nella totalità, ma non insisto, del Ministero dei beni culturali, il quale dovrebbe farci il museo, ma non ci fa niente in realtà, che i soldi non li hanno, quello che arriva dalle nostre parti se lo prende Pompei non ce lo prendiamo noi. Allora, un'ultima cosa, la storia si allunga verso il Castello Fienga e verso alcune zone, tipo la tomba del Duca di Carafa, che è stato dominatore della città di Nocera, ma credo che ci siano poche persone che si interessino alla storia di questa città, non la propagano, non la fanno conoscere ai ragazzi? No, c'è un'attenzione, se ne è parlato per tante cose, per tanti aspetti. E poi ci sono personaggi, c'è stata molta attenzione, io credo che dovremmo aspettare una stagione diversa, questa è stata una stagione amministrativa e continuerà ad esserlo in quest'anno e mezzo per mettere le basi di un riordino finanziario, di una riorganizzazione del personale che era fondamentale, di un riordino della pianificazione urbana perché non si faceva, insomma sono stati messi dei pilastri alla casa, delle regole, ora fare la casa bella, qualcosa la proviamo a farla noi, perché l'abbiamo detto con i lavori, fare la casa bella competerà ad altri, a chi verrà dopo certo, lavorare per dieci anni in questa città non è stato facile, tra tanti aspetti, rimettere a posto la società partecipata, stiamo facendo il nuovo piano industriale per i rifiuti, siamo usciti da consorsi e società territoriali che erano oramai archiviabili, soprattutto la patto territoriale, non tanto Agroinvest ma la patto territoriale, siamo usciti dalla seta, abbiamo preso in aus totale la gestione del servizio dell'igiene urbana, abbiamo dovuto rifare l'inventario del patrimonio che è in corso d'opera, questo mi permette anche di chiarire un altro punto sul parco giochi Canzolino, ho letto un articolo comparso in questi giorni dove una consigliere opposizione diceva sì ma voi non siete titolari dell'area, sì è vero però dovrebbe anche dire per onestà di intenti che in realtà la non titolarità è frutto del mancato trasferimento da parte di coloro che avevano avuto la concessione a beneficio del Comune, quindi una compromissione della posizione del Comune non c'è, grazie a Dio, se no non facevamo il mutuo dei 200 mila Euro per farci lavori sopra, quindi diciamo una cosa un po' imprecisa, quindi è bene essere precisi, anche qui se magari il giornalista si prendeva la diligente briga di sentire anche la voce dell'amministrazione scriveva cose più complete e più precise, ma oramai abbiamo perso la speranza, quindi io mi affido a questa trasmissione non perché qualcuno dice scioccamente amatele nuovo, vieni a fare l'intervista della comunicazione istituzionale e lei dice quello che vuole, no, al contrario, io completo le notizie che altrove non troviamo scritte e non tutti vanno sull'albo pretorio a leggere le carte, se si pensasse questa trasmissione posso fare una cosa, in vista del Natale noi dobbiamo completare l'altra mezz'ora istituzionale, voglio fare una trasmissione televisiva con tutti i consiglieri di opposizione, va bene, per un servizio istituzionale, così vediamo che ci vengono a dire, ma devono dire le cose vere, perché so che le cose precise, la lei dice giusto uno, forse uno e mezzo, una, forse uno e mezzo, opposizione di maggioranza, vengono tutti con i capigruppo e faranno i loro auguri e diranno le loro cose buone e cattive, lanciamo una specie di momento costituente in diretta televisiva. Benissimo, io sono disponibile. Perfetto, allora ci mettiamo d'accordo. D'accordo e faremo questa trasmissione. Allora adesso ci salutiamo, per l'Immacolata, adesso ci salutiamo. Ci salutiamo e facciamo gli auguri? Facciamo gli auguri, poi farò un messaggio di auguri per Natale e per Capodanno come abbiamo sempre fatto. Facciamole adesso per l'Immacolata, che è una festa qui molto... Facciamole l'Immacolata e tra pochi giorni, cioè tra tre giorni. Infatti? No, mi piacerebbe questo momento, diciamo, di dibattito, no di dibattito, di momento di pluralità, visto che questa è una trasmissione istituzionale, facciamo partecipare tutti i rappresentanti per ogni gruppo consigliere. Benissimo. A partire dall'opposizione e della maggioranza. L'invito è già fatto. L'invito è pubblico. Senti, un'ultima cosa, stia a te, questa è una domanda capuziosa, quando si faranno le elezioni politiche? Ah, non lo so. Credo che la... Non lo so, non mi sono mai preoccupato della scadenza delle politiche. Da qualche anno? Credo il 2000... La scadenza naturale di legislatura, se l'abbiamo votato febbraio 18, dovrebbe essere 23. Febbraio 23. Lei sarà ancora in carica? No, perché il mandato ordinario mio scade il giugno 22, maggio-giugno 22. Ho capito. Non aggiungo più niente. Mancano sei mesi dal 23. Ho capito, buona giornata. Grazie. Ciao, sindaco. Grazie. Ciao.